E guardate un po' chi c'è in difesa, si allunga e trova la palla. Baresi! Prova immediatamente in avanti. Baresi! Cerca il tiro! Supera la linea, gol! Ci prova, para con grande sicurezza. Bella parata! Vuole tirare. La toglie dalla porta. Ottimo riflesso. E l'estremo difensore si supera. Cerca di far avanzare su Oide con un pallone interessante. Ci prova il volo. La sfera entra in porta. Tras verso il centro. Prova la volée. Tentativo verso la porta. E ha gol! Che giocata! 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 Grazie a tutti